Il nostro ospite in questa puntata di Studio Telequattro è il presidente di Conf Cooperative Trieste, Dario Parisini. Grazie presidente per essere tornato a trovarci, perché ce l'avevamo già visti qualche tempo fa. Riprendiamo allora questo viaggio all'interno della galassia, a proposito di quella di cui parlavamo prima, della galassia cooperative. Oppure crocianamente, di che cosa parliamo quando parliamo di Conf Cooperative? Una galassia è un termine corretto e giusto, è una galassia molto sconosciuta anche, spesso purtroppo. È un mondo variegato, formato da realtà, da imprese, perché le cooperative sono delle imprese, che si fondano sul principio della cosiddetta mutualità, il che significa che sono delle persone che decidono di mettersi assieme per costruire un'iniziativa di tipo imprenditoriale finalizzata, quindi è una realtà che si colloca nel mondo dell'impresa, però ha una dimensione sociale molto importante, tanto è vero che la nostra Costituzione, l'articolo 45, riconosce proprio la cooperazione come un soggetto che ha una funzione sociale e che merita anche quindi un sostegno da parte dell'amore. Questa parte dell'essere cooperativa, lo sguardo al sociale, è andata soggetto nel corso degli anni a momenti carsici, immagino, dove anche dal punto di vista del sentire dell'opinione pubblica, immagino fosse meno forte. Adesso, da quanto ho capito, credo che si stia riscoprendo una valenza sociale del lavoro in genere e del lavoro delle cooperative a maggior ragione. Sì, la questione fondamentale, queste anche le nostre realtà, sono soggetto ovviamente alle pressioni del contesto in cui vivono, della cultura, soprattutto dell'approccio anche di un certo modo di fare economia, spesso che è quello, il cosiddetto mainstream economico, no, cioè orientato al profitto, chiaramente, e di conseguenza anche le nostre realtà negli ultimi decenni hanno avuto una pressione molto potente da questo punto di vista, rischiando anche di perdere, chiaramente, anche questo elemento fondamentale della socialità. La vera sfida è proprio questa per il nostro mondo, la sfida del mondo della cooperazione è proprio recuperare questa dimensione della mutualità, riattualizzarla oggi, nello scenario nuovo di sviluppo economico, che anche la nostra città sta avendo, e mostrare che è possibile fare impresa anche, anzi, soprattutto recuperando questa dimensione del rapporto interpersonale tra le persone. Che si era andato un po', che si era andato. Sì, purtroppo, diciamo che nel tempo, proprio questa pressione fortissima, no, di un modo di fare economia, ha influenzato pesantemente anche le nostre realtà. Oggi la vera sfida per noi è recuperare lo spirito della cooperazione, perché una cooperativa nasce, quali sono i motivi di fondo, i valori che queste nostre organizzazioni hanno, e rilanciarle in un contesto nuovo, in un contesto fatto di innovazioni, in un contesto fatto di sviluppo economico, insomma, la globalizzazione, sono tante sfide, no? Posso chiederle, gestire, diciamo così, una realtà come con cooperative, che è fatta di realtà diverse, per quanto, insomma, riconducibili ad una serie di filoni. È difficile o è complicato, oppure fondamentalmente no? No, no, beh, come tutte le cose... Sì, poi dopo è logico. Come tutte le cose, certamente complicato lo è, perché stiamo parlando, per dire due dati su Trieste, siamo quasi 100 cooperative, 2500 persone, addetti che ci lavorano, 8000 soci, quasi 80 milioni di fatturato l'anno, quindi insomma è una realtà complessa. Ma è anche affascinante dall'altro punto di vista, perché poi le nostre cooperative si occupano veramente di attività le più diverse. Abbiamo delle cooperative sociali, che sviluppano tutta l'attività nel campo sociale, educativo, assistenziale, ma anche l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la cooperative di produzione e lavoro, che operano nei campi più svariati, diciamo, economici, le cooperative del turismo, le cooperative culturali, insomma, le realtà sono veramente molto... Ognuna ha le sue problematiche, ognuna ha, come dire, le cose positive e le cose negative, relative all'ambito di cui si occupa, funzione dell'associazione di rappresentanza è un po' quello di cercare di rappresentare gli istanzi, i bisogni di questo organismo così complesso nei confronti della politica, nei confronti degli altri attori economici, del territorio. Per quello che sono i dati in vostro possesso, per quello che potete aver ragionato su, qual è il settore che nei prossimi anni potrebbe rappresentare, potrebbe dare le maggiori sorprese? Beh, ma su Trieste. Su di Trieste, sì, in positivo, in positivo. Sì, perché posso apprezzare, posso non essere... No, 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 questo non è il luogo... No, no, certamente, vabbè, diciamo che... Cioè, tutto il tema è legato anche allo sviluppo della portualità, del porto, del sistema logistico a Trieste, ma non solo a Trieste, anche nel tutto il territorio regionale, quindi chiaramente noi abbiamo fatto recentemente un paio di... Siamo da un convegno, no? Fa un convegno, sì, importante, in stazione marittima, molto partecipato. Oggi a Trieste, se parli di porto, non hai problemi ad avere tanta gente, soprattutto poi se fortunatamente, come nel nostro caso, sono venuti sia il Presidente D'Agostino che, insomma, arriva il direttore generale. Tra l'altro, devo dire, mi consente di dire una cosa così, fuori dal seminato. Io approfitto per sottolineare, ove ve ne fosse bisogno, l'estrema cortesia di Zeno D'Agostino, che è una persona che proprio è anche, quasi si mette a disposizione dei giornalisti con una cortesia veramente notevole. Bisogna sottolineare, perché non tutti sono così disponibili sempre. Con lui c'è questa possibilità e... Raramente dico queste cose, però è il caso di sottolineare. E' anche una persona molto competente, chiaramente. Quindi quando hai a che fare con persone che hanno questa competenza, che hanno anche questa visione, diciamo, che vuol dire non fermarsi solo all'oggi, ma guardare anche in prospettiva, ovviamente stimola tutto il contesto. Sì, si lavorano, tutti quanti lavorano. Stimola il contesto. Per noi è stato importante, abbiamo fatto un percorso con l'autorità di sistema portuale all'interno di una tematica particolare che era quella delle nostre cooperative che lavorano nel ciclo del caffè, che ha dato risultati importanti, che ha trascinato fuori alcune realtà da una situazione anche difficile. Quindi devo dire la verità, è in questa prospettiva che l'associazione di rappresentanza deve avere un ruolo, quello di stimolare per produrre un cambiamento in bene, in meglio ovviamente, per cercare di individuare dei percorsi per le nostre organizzazioni che siano di sviluppo. E quindi anche secondo lei gioco forza si deve guardare al porto per... Diciamo, è uno solo, non è l'unico ovviamente, delle partite fondamentali per lo sviluppo della nostra città. Non è l'unica perché ci metterei accanto... Dobbiamo anche stare attenti, no? C'è questa immagine oggi che quasi, uno dice, il nostro territorio diventerà un'enorme piattaforma logistica. Accanto a questa cosa, e questo è un po' anche il rilancio che vogliamo fare noi anche come Conf Cooperative, stiamo attenti anche alle persone, stiamo attenti anche all'ambiente, anche il contesto. Quindi accanto a un discorso di sviluppo di piattaforme logistiche, di trasporti, di merci che vanno e che vengono, eccetera, c'è un contesto di un territorio dove c'è bisogno di riqualificare gli spazi verdi, c'è bisogno di bonificare, c'è bisogno di avviare iniziative anche agricole, c'è bisogno di iniziative agricole che collegano l'agricoltura con il sociale, quindi agricoltura sociale. Quindi c'è un disegno complessivo, credo, del sviluppo del territorio. E poi immagino che più il territorio si sviluppa in un modo, più ha ricadute positive o negative in un altro modo, quindi bisogna fare attenzione anche a questo. Volevo portarla un attimo su un territorio più mio, nel senso che è quello di turismo e cultura, non perché io sia un turista, però per quanto riguarda poi il binomio turismo e cultura è anche un altro asset che se seguito con attenzione potrebbe rivelarsi abbastanza vincente. Sicuramente sì, ci sono. E lì immagino, bisogna anche un po' avere più immaginazione, ma comunque per Trieste è un territorio, quello del turismo, soprattutto un territorio fondamentalmente nuovo. Assolutamente sì, noi abbiamo alcune cooperative che su questo versante stanno lavorando. Potrei fare un esempio, ecco, che forse è l'esempio forse un po' più significativo, che collega anche questo discorso che abbiamo fatto con il Porto. Non so se i nostri telespettatori sanno, ma c'è stato 10-15 anni fa un gruppo di cooperative sociali che hanno rilevato l'Ausonia, lo stabilimento balneare Ausonia, che era un luogo, è un luogo simbolo ovviamente della città di Trieste, e che stava andando in degrado profondo. È una sfida che un gruppo di cooperative sociali hanno preso, non sufficientemente forse riconosciuto a livello cittadino. Capito, sì, capito. Però sono 15 anni che noi gestiamo quello spazio, quel posto, e quindi 10 anni, 15 anni che i cittadini hanno continuato a utilizzare quel posto che rischiava invece di essere in qualche maniera chiuso. Oggi non basta, ecco, la riflessione che facciamo è su quel posto lì, non basta pensare solo a quello dello stabilimento balneare. Bisogna farlo lavorare 365 giorni all'anno, bisogna aprirlo ai flussi turistici, bisogna fare in modo che quel luogo diventi un luogo simbolo anche di un modo di ben vivere, anche di stare bene, diciamo. Quindi questo è, tra l'altro, un bene pubblico, quindi anche il fatto di riqualificare un bene che non è proprietà di qualcuno di noi, ma è proprietà di tutti. Questo che lei dice di 365 giorni su 365 è un'altra parte del problema, nel senso che quando una realtà come quella triestina vuole affermarsi in un ambito come potrebbe essere quello del turismo, non può più ragionare secondo determinati schemi, cioè non puoi pensare che i turisti vengono quando tu sei aperto. Devi essere aperto quando i turisti ci sono. Io faccio un esempio perché mi riguarda. Io sono stato a Modena a metà marzo e è una città molto bella, devo dire la verità, molto ordinata, però si percepisce che non è pronta ad un certo tipo di turismo, proprio perché in giornate, sotto certi aspetti essenziali, come la domenica, non tutto è aperto. So che questo ci porterebbe ad un discorso anche insidioso, per dire la verità, però da un punto di vista del turista che vuole portare qualche cosa a casa, eccetera, eccetera, trovarlo. E lì a Modena ci stai due giorni, due giorni e mezzo, non ci stai di più. Quindi credo che sia una... Sì, ma anche qui a Trieste la sfida è un po' di cercare di fare il sistema, di mettere insieme più soggetti che si occupano di cose diverse e che sono in grado però di offrire un prodotto unitario, integrato, rispetto alla bellezza di questa nostra città, che è veramente dal mare al carso, è straordinario. Quindi la sfida è proprio questa. Da questo punto di vista il nostro sistema cooperativo potrebbe essere quello che propone alcune soluzioni, alcuni percorsi, che vanno anche a riscoprire posti sconosciuti della nostra città, luoghi naturali o culturali che non sono poco... Ma che oggi vediamo, il turista soprattutto va molto alla ricerca di cose particolari, perché poi è legato anche a tutto il discorso della enogastronomia. Anche perché, diciamoci la verità, queste cose qua, o hai qualche amico che sta nella città che tu vai a visitare e che ti dice vieni con me e ti porta a vedere cose che non vedresti, o se no bisogna che ci siano queste realtà. E questa fantasia insomma, tutto sommato, che ti propone dei percorsi che poi non debbono assolutamente tralasciare la questione enogastronomica che è fondamentale. Assolutamente, sì. Ma noi anche alcune nostre cooperative sono impegnate, alcune riqualificazioni dei spazi fisici della nostra città, no? Ci abbiamo un bosco meraviglioso che è la periferia della nostra città, in Stato del Friuli, il Bosco Bovedo, che si presta benissimo a fare dei percorsi di tipo di scoperta della biodiversità, no? Allora, sono proposte semplici, che però in qualche maniera possono attrarre anche un flusso di turisti, ma non solo, poi anche legato all'attività didattica, con le scuole. Basta pensare anche al lavoro delle cooperative in ex OPP. Sì, beh, certo. Poi c'è tutta l'esperienza, chiaramente, delle cooperative sociali. Ecco, altro... Sì, sì. È il tema, beh, le cooperative sociali in realtà sono... Noi a Trieste, ormai quasi il 60% delle nostre cooperative, aderenti a confcooperative sono sociali, segno di un, come dire, uno sviluppo importante di questo settore, cooperative quindi che si occupano sia di attività educativa, assistenziali... Ma è anche là... Mi scusi se l'ho interrotta. Il discorso è che forse il termine, come posso dire, limita un po' da parte del pubblico la comprensione reale del lavoro, no? Sociale uno pensa che sia limitato a determinati aspetti. Invece ci sono delle cooperative sociali che lavorano... No, le cooperative sociali lavorano su tutti gli ambiti economici. La differenza qual è? Che lo scopo delle cooperative sociali, rispetto a qualsiasi altra azienda e anche all'altro tipo di cooperative, è che è quello dell'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini. Quindi fanno attività le più diverse, ma orientate verso questa finalità pubblica di interesse generale e quindi è un particolare tipo di impresa che dimostra in qualche maniera che si può fare attività di impresa andando a valorizzare e a promuovere il bene comune e non l'interesse personale del proprietario dell'impresa. In una città come Trieste questo tipo di lavoro, questo tipo di ragionamenti è più semplice, stante anche la... vuol dire sarebbe applicabile come modello che so anche a Milano oppure funziona su Trieste che è più piccola? No, beh, la cooperazione sociale in realtà è un modello che si sviluppa dappertutto, forse è scesa in città grandi, città piccole, in città... Per cui in realtà, come dire, l'obiettivo e le finalità delle cooperative sociali hanno avuto un grande sviluppo in questi ultimi 30-40 anni in Italia, anzi è un modello anche a livello europeo visto come qualcosa di particolare. Poi ogni contesto ha la sua storia, le persone che incarnano questa storia in qualche maniera... E mi pare che anche in questo campo c'è bisogno... C'è un termine che viene mal tradotto dall'inglese perché non ha una traduzione specifica, che c'è bisogno di una certa vision, cioè che significa però anche fantasia, che significa anche capire ciò che il territorio... È un po' una paraprasi chenediana, no? Non chiedere al territorio cosa può fare per te, ma chiediti cosa tu puoi fare per il territorio. C'è bisogno di un ragionamento su questo. Sì, beh, questo è un po' effettivamente l'esperienza delle cooperative sociali, è stata anche in quest'ottica è stata pionieristica, nel senso che proprio le persone che hanno voluto fondare, costituire le cooperative sociali avevano questo approccio, no? Che cosa posso fare io per il territorio e non solo io singolarmente, ma soprattutto l'insieme di queste persone, perché la forza della cooperativa è proprio questo concetto della mutualità, del mettersi assieme. E da questo punto di vista queste cooperative hanno scoperto qualcosa di nuovo, appunto questo fatto che si può fare impresa per realizzare un bene comune, non semplicemente all'interesse dei soci specifici. Mi pare di capire, mi corregga se sbaglio, ma mi pare di capire che il mondo della cooperazione a Trieste non è stato minimamente toccato anni fa da quelle che potevano essere tutti i problemi che vanno sotto il nome di cooperative rosse, no? Nel senso c'è stato un brutto periodo in cui adesso poi è facile... Quello relativo a Roma e... Sì, più l'Emilia Romagna è successo delle cose. Sì, vabbè, allora noi storicamente il mondo della cooperazione nasce da queste due grandi matrici, che è da una parte il movimento, chiamiamolo operaio, dall'altra parte la dottrina sociale della Chiesa. Conf Cooperative rappresenta le cooperative che nascono da questo secondo filone, questo della dottrina sociale della Chiesa. Le cooperative del movimento, diciamo, più cosiddetto operaio nascono dal versante, diciamo, appunto, di Lega Coop, sull'altra associazione di rappresentanza. Oggi, questo sono schemi del passato. Sì, del passato, meno. Sono schemi del passato, le cosiddette cooperative bianche e le cooperative rosse. In realtà oggi si misura su una cooperative grande o piccole, piuttosto. Si va sulla sostanza, dai. Si va sulla sostanza e non più sulla parte, diciamo, ideologica, politica. E quindi si misura la validità di una cooperativa più sul fatto se è in grado di saper fare bene un mestiere e soprattutto di farlo attraverso questo principio del mutualismo. Questo è il concetto fondamentale. Io, personalmente, sono, come dire, uno che ha sempre cercato di lavorare per unire questi due movimenti ed evitare queste divisioni che poi alla fine creano solo... Sì, confusione. Confusione, problemi. Non fanno bene a nessuno, ecco. Non aiutano complessivamente. Infatti c'è un processo in questi ultimi anni di unitarietà di questo movimento, si chiama Alianza delle Cooperative Italiane, che cerca di mettere insieme con queste due anime storiche e di rilanciare la cooperazione verso un futuro diverso, ecco, anche da questo punto di vista. Non gli ho chiesto, ed è una grave colpa, quante sono le persone che lavorano a Trieste all'interno della Galassia Cooperative? Sono 2.500 le persone che ci lavorano. 2.500. E' più o meno 8.000 soci, quindi una realtà, ecco, che anche dal punto di vista dei numeri non è positiva, insomma, è buona, ecco. Ripeto, siamo forse poco conosciuti e spesso siamo visti un po', come dire, un po' anche dei pregiudizi alle volte, no? Nel mondo della cooperazione. Qualche volta, giustamente, perché ci sono state situazioni, però come in tutti i contesti umani c'è sempre, no? La dimensione, in qualsiasi situazione, c'è sempre la dimensione problematica, vale per noi come vale per qualsiasi altro mondo economico. Anche la religione e la spiritualità fanno i fondamentalisti che si ammazzano delle cose. Quindi, voglio dire, ma non per questo uno dice che la religione e la spiritualità sono qualcosa di negativo. Quindi, questo è un po'. La sfida per noi del futuro è quella di far crescere questo movimento, soprattutto rilanciando questo tema del stare assieme in cooperativa e del lavorare, secondo questi principi dei nostri padri fondatori, che sono più che mai oggi in un mondo individualistico, validi, importanti e da promuovere. Grazie allora Dario Paridini, presidente di Conf Cooperative Trieste, per essere stato con noi. Noi ci vediamo domani alle 17.30 con Trieste in diretta, alle 18.30 c'è l'appuntamento con Star Bene in TV. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.